In questo video ci saranno degli spoiler visivi minimi di Persona 5, stai attenti. Sto virus, secondo me, si poteva fermare un mese fa se la gente veramente avessi avuto un attimo. No, ma credo non ci state, nel caso da chi anni manneggia? Capri! È arrivato via, ormai, non c'è più scampo, porco. Capri! Porco Capri! Ne sta la casa tua, ne scassano cazzo, ne prossimo! Ma io ci dovete dare a pranita in un mezzo agli ospedali e chiamava a mamma! Ma porca! Ma cazzo mangiare? voglio dottore da chi per il tanto che lei mannaggia san guglielmo del benevento è che cazzo sono a far mettere note auto a posto parlo cata and ormai che ha già stato un guaiati porco cari che stiamo rovinati che cazzo i nostri state a morire tutti quanti nel nord morire del nord non c'è buono per te e tu cazzo vengono al sud sta a togliere stai male è morire alla casa tua noi fa morire pure gli eroti porco cari perché non siete cazzo deve stare a casa i vostri sti bongolati da merda mannaggia cauri mannaggia cauri mannaggia salviamo cauri mannaggia cauri mannaggia cauri troia mannaggia cauri mannaggia cauri mannaggia caur mannaggia cauri Grazie a tutti.